Le guerre di religione in Francia Nel Cinquecento le riforme di Lutero e di Calvino avevano frantumato l'unità religiosa dell'Europa occidentale e scatenato odi e persecuzioni religiose. In particolare i principali conflitti che esaguinarono l'Europa furono le guerre di religione in Francia dal 1560 al 1598 e la guerra dei trent'anni in Germania 1618 e 1648. Da questo clima di reciproco odio e diffidenza tuttavia si affermò lentamente e faticosamente uno spirito di tolleranza. Il re di Francia, Francesco I, che vediamo nella parte sinistra della slide, pur utilizzando tranquillamente i protestanti tedeschi e addirittura anche i musulmani turchi contro il suo nemico il cattolicissimo Carlo V, imperatore di Germania, aveva cercato di impedire il diffondersi della riforma nel suo paese per evitare che il suo potere venisse limitato. In particolare aveva lottato contro la diffusione del protestantesimo calvinista, allontanando appunto il teologo parigino Calvino dallo Stato. Tuttavia la religione protestante calvinista si era particolarmente diffusa sia fra la borghesia cittadina sia anche fra le grandi famiglie nobili, che usavano appunto la religione per opporsi al forte potere della monarchia. Dopo la morte improvvisa del figlio di Francesco I, Enrico II, a causa di un duello cavallerisco di un torneo ed un incidente nel 1559, la reggenza del trono fu assunta dalla vedova, l'italiana Caterina dei Medici. Infatti i figli della coppia erano troppo piccoli. Questa situazione creò molta confusione ed ambiguità. Approfittando della debolezza della monarchia retta appunto da una donna e da una straniera, i protestanti, che erano allora circa un milione su 15 milioni di abitanti, ben armati e potendo godere dell'appoggio di alcune nobili famiglie, ottennero molti diritti, come creare loro luoghi di culto e anche scuole religiose. Questa situazione provocò dall'altra parte la creazione di una vera e propria lega cattolica, guidata da altre potenti famiglie, in particolare quella dei duchi di Guisa, che ottennero spesso l'appoggio ambiguo appunto di Caterina e dei suoi figli. In particolare il conflitto fra le due fazioni, un conflitto sempre più sanguinoso, raggiunse il massimo grado di crudeltà nel momento in cui si era cercati di arrivare ad un compromesso. Infatti la principessa Margaux, quindi la figlia di Caterina, aveva accettato di sposare Enrico di Borbone, re di Navarra, suo cugino ed esponente del partito ugonotto, quindi protestante. Nella notte però del 1572, passata la storia come la notte di San Bartolomeo, i Guisa, con l'appoggio di Caterina, decisero di uccidere gli ugonotti che erano arrivati per il matrimonio a Parigi. Anche lo stesso capo dei protestanti, De Coligny, venne ucciso mentre Enrico riuscì miracolosamente a salvarsi. In seguito ovviamente a queste stragi gli ugonotti ripresero le armi e la Francia fu devastata ancora da lotte cruette e omicidi. Passando alla storia come la guerra dei tre Enricchi, perché tre erano i personaggi principali della vicenda. Enrico III, l'ultimo figlio maschio di Caterina, Enrico di Guisa, capo del partito cattolico ed Enrico di Borbone Navarra, che era invece capo del partito protestante. Alla fine Enrico di Guisa e poi successivamente Enrico di Francia, Enrico III, morirono e quindi la corona aspettava ad Enrico di Navarra o Borbone come lo vogliamo dire, cioè Enrico IV. Egli prese quindi il potere ma per soffocare gli ultimi contrasti decise di abbiurare la sua religione, cioè di rinunciare alla religione protestante. Per mettere fine ad ogni contrasto, e tanto è vero che anche il Papa lo riconobbe come sovrano francese. Subito dopo essere diventato re, nel 1598, egli promulgò un importantissimo documento, l'editto di Nantes, che assicurava per la prima volta agli ugonotti piena libertà religiosa. Essi avevano anche a disposizione alcune importanti città fortificate nel quale eventualmente rifugiarsi in caso di attacco. In questo modo lo Stato sembrava pacificato. Dopo la morte della moglie, Margherita, il re si risposò con una straniera, ancora una volta un'italiana. Stiamo parlando di Maria dei Medici. La situazione sembrava quindi andare a normalizzarsi e tuttavia ancora le tensioni continuarono. Tanto è vero che lo stesso Enrico IV trovò la morte in un attentato compiuto da un fanatico cattolico, che lo uccise nel 1610, lasciando quindi la vedova Maria come reggente del giovanissimo Luigi XIII.